Proloquo e Comune di Avellino e Carnevale Princeps Irpino insieme nel fine settimana per regalare agli avellinesi un weekend all'insegna dei festeggiamenti e delle sfilate. Si comincia domani quando le maschere entreranno nel reparto di pediatria del Moscati, si prosegue nel pomeriggio con la sfilata lungo il corso fino ad arrivare al Clou di Domenica quando ancora lungo Corso Vittorio Emanuele il Carnevale storico della Zezza di Belizzi animerà di colore e spettacolo la giornata. Il messaggio è quello del Carnevale per tutti, quindi anche chi non ha purtroppo la possibilità di uscire per strada e assistere alle sfilate delle maschere noi abbiamo cercato, grazie anche all'azienda ospedaliera e al primario del reparto di pediatria, di creare un momento anche lì. In questo devo ringraziare il Princeps Irpino che ci ha dato piena fiducia nell'organizzare questa manifestazione. Cercheremo di dare visibilità alla Zezza di Belizzi anche all'Expo di Milano, indubbiamente fa parte del nostro patrimonio antropologico. Nella speranza che possa essere un primo passo per l'allestimento di una sorta di cartello a livello provinciale che potrebbe essere un forte attrattore anche turistico e che purtroppo finora non si è mai riusciti a varare superando diffidenze municipalistiche che pure ci sono.